E una voce di fuori è caduto un apparecchio. Questo è il terrapieno che sorregge il tempo. 70 anni fa, 4 maggio 1949, la più grande tragedia del calcio italiano. Poco dopo le 17, l'aereo che trasportava i giocatori del grande Torino, di ritorno da una partita a Lisbona, si schiantò contro la collina di Superga. Nell'impatto persero la vita tutte e 31 le persone a bordo. L'intera squadra granata con campioni del calibro di Mazzola, Loic, Gabetto, Ossola, Baggi Calupo, il tecnico Herb Stein, eroi per i bambini, idoli per la gente. Il grande Torino era la squadra regina del campionato, vincitrice di 5 scudetti consecutivi. Il record che ancora resiste è dell'11 maggio 1947. Dieci granata su undici furono schierati in maglia azzurra nel match vinto 3-2 sull'Ungheria del giovane, ma già promettente Puskas. Di quell'irripetibile Torino, sebbene giovanissimo, faceva parte Tony Giammarinaro. Mezzala di indubbio talento. Era il pupillo, pensate, di Valentino Mazzola. Aneddoti, ricordi, anche con un filo di commozione. Io quando sono arrivato a Torino avevo 17 anni, che andai allo stadio per fare la prova per il Torino. Anche se la Juventus mi stava appresso da parecchio tempo. Io rinunciai ad andare alla Juventus perché il Torino era campione d'Italia. Clamoroso, eh? Campione dei giovani. Però, ripeto, da 17 anni fino ad oggi, che ero 82, mi rimane sempre nella mente quello che mi è successo all'inizio della mia carriera. La mia carriera la avevo tutta Mazzola perché mi ha sempre consigliato, mi ha sempre portato. Mi ha consigliato come un figlio perché mi passava a prendere casa in macchina, mi portava a fare allenamento. Secondo me gli uomini come quelli di cui sono non esistono più. Non dico come calciatori, come sul terreno di gioco, ma come bontà, come serietà. Tu pensi, quando io sono arrivato al Filadelfia, che stavo entrando nel campo del Filadelfia, avevo un paio di ciabatte perché non avevo le scarpe da calcio. E ovviamente arriva Valentino Mazzola che si ferma con la macchina prima di entrare e dice che è successo. Allora il magazziniere dice guarda che il ragazzo ha un paio di ciabatte, non ha le scarpe da calcio, deve fare la prova. Dice voglio prendere le scarpe mie, glieli dai e così fa la prova. E di fatti è stata una cosa che ha acceso nel mio cuore proprio l'affetto per questo uomo che mi ha donato la vita. E' stato il primo impatto con Valentino Mazzola. Valentino Mazzola è stato eterno fino alla fine della sua, e anche di fatti ho voluto stare vicino alla sua barra perché l'affetto che avevo per questo uomo, non come calciatore ma come uomo e come bontà che non è uguale a nessuno. Sono nato a Tunisia ed ero un profugo. La mia storia da poco mi sono fatto una posizione perché l'amore che mi ha dato il primo giorno in cui incontrai questo signore mi ha riempito il cuore di una potenza di cui mi sono fatto anche nella carriera. Ho cercato sempre di lavorare molto di più, ho mantenuto i miei genitori che purtroppo venendo via dalla Tunisia erano poveri, come erano poveri tutti quanti i miei fratelli. Ho cercato di aiutarli tutti perché? Perché proprio questa forza che mi ha dato e la mia implicazione nel calcio mi ha portato ad essere un pochino più qui di prima. Praticamente eri salito su quell'aereo, poi ti hanno fatto scendere, com'è la storia? Ma purtroppo mi hanno fatto scendere perché dovevamo fare un torneo internazionale importante e allora mancandoci io che ero considerato, non per la modestia, il più bravo della squadra dei giovani e allora siamo andati a fare questo torneo a Roma e abbiamo vinto il torneo a Roma e purtroppo la vita ci sono ancora, non era il destino che io dovesse portarmeli con loro. Come hai saputo tu della tragedia? Ti stavi allenando con la formazione primavera, con i tuoi compagni in squadra? Sì, in un bel momento il magazziniere arriva di corsa nel campetto piccolo perché lì c'erano due campi, il campo Filsadelfi e il campetto a fianco di cui noi facevamo allenamento e giocavamo le partite meno importanti. Quando erano le partite importanti giocavamo a fianco. In quel momento arriva di corsa, è caduto il torneo, è caduto il torneo sul... noi ci siamo messi a rire, questo ci prende per il culo, parlando con rispetto, scusa, della frase. Però è un bel momento, dopo è arrivato una persona di corsa e allora ci siamo resi conto che era veramente la verità. Difatti io e il mio amico, la mezzala che giocava con me, Francona, lui aveva... io non avevo niente, lui aveva la Vespa che era un benestante, parlo da 47-48, era un povero. E andammo di corsa a Superga. Ma per arrivare a Superga ci abbiamo messo un'ora, un'ora e mezza quando io con la Vespa, massimo mezz'ora ci arrivavi. La gente che era su tutto questo viale, gli automobili, tutte le... c'era una cosa incredibile. Noi siamo arrivati vicino, non vicino all'aereo, a 50 metri dall'aereo che ancora c'era fumo, un po' di... c'era una cosa irresistibile proprio. Uno strazio, eh? Un strazio completamente che non auguro a nessuno di vedere. Dopo la tragedia terribile di Superga siete andati a giocare contro il Real Madrid a Madrid. Sì, noi dopo la sciacura di Superga il Torino era diventato una... non aveva giocatori, non aveva nessuno. Noi era proprio della primavera e qualche giocatore in prestito da qualche squadra che poi si era formato il Torino simbolo per fare un po' di raccolta di denaro, per riformare il... Nel frattempo siamo andati a fare la Coppa Latina a Madrid perché ci avevano invitati e ho avuto la fortuna di giocare con dei fenomeni perché nel Real Madrid c'erano i tipi come Di Stefano, Puskas, Gento... Nei citati tre! Gli altri non li cito perché erano dei fenomeni e infatti il Real Madrid in quel periodo era quello che predominava il mondo. Come dici tu, insomma, i calciatori sono cambiati, no? Adesso c'è molta arroganza, molta presunzione, però sono cambiati anche i tempi, Toni. Come si fa? Non si può tornare indietro? Io non voglio tornare indietro, non odio nessuno e non voglio male a nessuno. Il mio tempo è stato quello di cui ho vissuto con della gente eccezionale. Non parlo di calciatori con la palla, parlo di uomini. Ecco, io ammiro quella squadra perché erano tutti come fossero fratelli perché giocavano, si tiravano l'acqua e pure erano dei fenomeni. Noi ragazzini giocavamo il giovedì, facevamo i tunnel, ci prendevano a schiaffettino, ci davano... Insomma, era una famiglia, oggi come oggi è impossibile trovarla in qualsiasi squadra. Perché l'affetto che avevano, quelli della prima squadra, con i ragazzini, secondo me non esisterà più nel mondo del calcio. Per esempio ho avuto la fortuna e l'onore di intervistare qualche mese fa Paolino Pulici, che è stato un grande degli anni settanta proprio con la maglia del Torino. E lui ha detto testualmente, io ero molto amico, diceva, molto amico anche di Morini, che era il mio marcatore della Juventus, e andavamo a fine partita insieme dopo il derby, ci vedevamo con le famiglie, adesso questo non succede più. No, ma io ti voglio anche dire che Giampiero Boniperti è venuto con me, siamo cresciuti insieme perché siamo andati in nazionale militare insieme, ci vedevamo a Torino insieme qualche volta, lui con una bambina di qua, una ragazza di là. C'era questo affetto tra gli uomini, oggi non c'è più, c'è l'odio, c'è l'invidia, perché tu giochi nel Juventus e guadagni 10 milioni in più, io ne guadagno uno, c'è questa invidia, questa rivalità del denaro, non è la rivalità del gioco, è la rivalità del denaro che uno ha più dell'altro, che guadagna più dell'altro, si crede di essere perché ha guadagnato di più, migliore di quello che non ne ha preso. Ecco, questo è quello che io invidio oggi nel mondo del calcio, perché la generosità e la bontà è finita. Perché prima a Torino e a Juventus facevano i derby, ma non c'era quello che è successo oggi nell'aggressività fuori dallo stadio. I rapporti con Cairo? Io i rapporti con Cairo non li ho mai avuti, per il semplice fatto che quando è stato inaugurato il Philadelphia a Torino, che io mi sono premurato di andare con mia moglie e mio figlio per vedere il nuovo stadio, nuovo, perché io l'avevo visto un anno prima, pieni di erbacce, qui ho anche le fotografie, te li faccio vedere, pieni di erbacce, abbandonato, sembrava un campo di nomadi, non per denominarli nomadi, ma il progetto del campo. Era una cosa irresistibile proprio da vedere, uno che ha giocato in un campo che era stupendo. Un bel momento siamo tornati all'inaugurazione di questo stadio bellissimo, un uomo Philadelphia, e questo signore si è permesso di fare entrare prima la prima squadra del Torino e poi non c'erano neanche chiamati. Tu pensi che noi abbiamo calcato quel campo, i primi a calcare quel campo dovevamo essere noi che abbiamo calcato, non quelli che sono arrivati, perché quelli che sono arrivati sono stranieri, non conoscevano chi erano, non sapevano chi ci ha messo i piedi dopo, non sapevano che se Mazzola giocava adesso con lo stadio, e allora da quel giorno io non amo più il Torino, non sono più torinese, ma sono gioventino. Non ha rimediato Cairo? Penso che non ci pensa proprio, perché Cairo è un affarista, è un mecenate, perché lo dimostra che durante la cerimonia dell'inaugurazione dello stadio si è messo in mezzo al campo e vendeva i posti dello stadio per riempirlo. Sia i giocatori che all'esterno chiedeva chi vuole la tribuna, è una cosa che secondo me sono i mecenati e poco senso. Lui è il presidente del Torino, non del grande Torino. Vorrei che tutti quanti i giornalisti che abbiano la possibilità di sentirmi, di avere, io, Gianmarinaro Antoni, che sono nato nel grande Torino, che ho vissuto tutto, il bene e il male, il signor Cairo non è degno di rappresentare il grande Torino, rappresenti il Torino, che è una cosa molto diversa da quella di prima. Torino Giammarinaro, calciatore, era tanta roba, con il suo sinistro, mezzala di grandissima qualità, con la 10 rigorosamente sulle spalle, è un sbaglio. Sempre, in tutta la mia carriera, in tutta la mia carriera da calciatore, ho sempre avuto la maglia numero 10, sempre. Solo una volta l'inglese, che era a Torino, mi aveva consegnato la maglia numero 7, cui io la rifiutai e non giocai. Prima ci voleva tanto carattere per fare una cosa del giorno. Sai, quando uno è capace, pretende, quando uno non è capace non può pretendere. Io pretendendevo perché ero capace, nella mia attività ho sempre fatto il mio dovere, sono sempre stato abbastanza uno dei primi, in tutti i campi in cui ho sempre fatto, perché la mia indole me l'ha data a quel signore di essere sempre un vincente. Assolutamente, quello è il DNA, che rimane scolpito. Hai qualche rimpianto per la tua carriera da calciatore, per quello che avrebbe magari potuto essere l'onestato? Guarda, ti voglio dire, adesso non mi voglio dare una nomina, ma la mia carriera, la morte del Torino è troncata, perché se avessi avuto la fortuna di giocare con loro, anche, perché oggi i giovani li fanno giocare, ai tempi loro non nessun giovane si permetteva di entrare in campo, e allora era una cosa molto diversa giocare con questa squadra e giocare con l'altra squadra che è arrivata. Di fatto, io mi sono andato via da Torino per continuare a fare la mia carriera, se no avrei smesso. Ecco, l'unico rammarico e la mia amarezza nella mia carriera, fino ad oggi, è stata quella della morte del Torino. Mi ha completamente distrutto. Il tuo arrivo in Abruzzo? In Abruzzo è stato che io da Torino andai a Bari, a Bari vincemmo il campionato, poi l'anno successivo stavamo risuscendendo, il Pescara mi è venuto a prendere, perché c'era l'Asio come allenatore del Bari, e allora era amico del presidente Coscucci Marra e è stata anche per questa una fortuna, perché ho trovato una donna eccezionale, ho fatto quattro figli, e qui a Pescara sto divinamente bene. Anche se ho girato Mezzomondo, dove mi sono trovato anche bene, Avellino, Taranto, Bari, ho girato tutte le squadre meridionali, perché le squadre meridionali ci hanno più affetto che delle squadre... Più passione. Più passione, perché io sono stato un anno a Mantua, ho fatto 41 partite e vinse il campionato. E poi da Mantua andai a Torino, da Torino venne a Bari, e da Bari iniziò la mia carriera meridionale. Al sud hai lasciato il segno in ogni dove. Sì, 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 perché ripeto... Avellino un grandissimo campionato. Ma purtroppo nel meridionali c'è il sangue, c'è la passione, la gente ti stima quando fai bene e ti martella quando fai male. È un'esigenza giusta. Io ammiro la gente che quando la squadra va male si contraddice contro il calciatore, perché il calciatore ha tutto il dovere di dare al pubblico quello che sa fare, non quello che non sa fare. Però il sud è molto vicino alla maglia del toro per la passione, no? Molto. Molto, ma non del Toro di Oggi, è del Toro di Piri. Scusa, bisogna sempre distinguere. No, no, bravo, il filiadeff era sempre pieno, non c'era mai un posto lì, però oggi ci sono i posti lì. Oggi, quando un giocatore del Torino indossa la maglia granata, sente ancora qualcosa dentro oppure è cambiato tutto? Ma come posso dirtelo che ci sono dieci stranieri su undici in uno stadio dove il grande Torino ci ha messo... Non è possibile che uno straniero venga abbia l'attaccamento ai colori, all'attaccamento al denaro. Questa è la differenza tra l'attaccamento ai colori e l'attaccamento al denaro. Oggi il ragazzo ha tutto, non sa soffrire. perché noi, ai nostri tempi, come 50 anni fa, 30 anni fa... Si giocava in mezzo alla strada. Ecco, si giocava in mezzo alla strada, i piedi si rovinavano, andavi a casa, prendevi le pacche del padre e allora avevi questo attaccamento di giocare al... Oggi c'è tutto. Oggi c'hanno i campi in erbe sintetiche, c'hanno le scarpe leggere, c'hanno le maglie. Noi non c'avevamo le maglie, c'avevamo la canottiera stracciata e giocavamo. La fame fa diventare qualcosa a qualcuno. Il benessere non fa diventare niente a nessuno. Quanto manca, secondo te, la palestra della strada, visto che ne abbiamo parlato, ai giovani di oggi, ai bambini di oggi soprattutto? Ne manca tanto. Tanto perché, ripeto, il problema della palestra significa robustire quello che è proprio lo scheletro del soggetto. Perché noi, giocando sulla sabbia, giocando sui sassi, ci robustevamo perché avevamo paura, facevamo degli esercizi che in palestra si fanno senza danni. Soprattutto poi si fortificava anche il carattere. Esatto, esatto, perché subivi le botte, cadevi, ti strisciavi il sangue, uscivi, ci mettevi, scusatemi, ci mettevi la pipì perché faceva disinfettante. E sono cose in realtà di 50 anni fa. Oggi, magari, se tu dici queste cose, la gente ti sente e diceva ma quello è pazzo. Non è vero. Noi eravamo, in mezzo alla strada, uno si graffiava, si scappava la pipì, metteva nel fazzolettino e si dava e si soffinava come se fosse l'alcol. È una cosa che oggi non si permette a nessuno di fare. Diciamo, in questa modernità del calcio la tattica prevale molto di più sulla tecnica rispetto a quanto non accadesse prima. Ma sono d'accordo, sono d'accordo con te perché oggi, tatticamente, si gioca la partita prima di iniziare. Però, quello che io non sopporto è il contenimento della palla giocandola dieci volte il difensore buttare la palla avanti e magari fare un passaggio. Una volta non si giocava in questo modo, si giocava diversamente. Chi era bravo saltava l'uomo, i piedi ce li aveva buoni perché il passaggio non lo sbagliava. Oggi fare il passaggio a dieci metri io chiudo gli occhi e lo facevo senza parlare. Adesso sembrano tutti uguali, omologati. Bravo, tutti uguali. Chi ha qualcosa in più, questi un po' rapidi che saltano l'uomo, che fanno qualcosa, gli altri sono tutti uguali. Parla a me, parla a te, parla a me, parla a te, dieci minuti di tempo. In una partita di un'ora e mezza giocheranno, sì o no, a tutti i livelli, 40 minuti. Una volta correvano dalla mattina alla sera. E poi c'è da dire che prima il dribbling era la normalità, oggi è l'eccezione. Esatto, prima ci trovavano gli uomini che dribbravano due o tre persone, facevano la finta e roba del genere, andavano via da un modo dall'altro, avevano una velocità non indifferente, avevano una forza fisica. Oggi purtroppo il mondo del calcio è cambiato, io lo apprezzo, però è noioso. Lo dovete sapere, io ho avuto la fortuna, ci ho solo provato, eh, niente di che, ho provato a giocare, però l'ho avuto come allenatore a Chieti. Ne approfitto, Toni, per chiederti, sei stato prima nel 76-77 vincendo un campionato di Serie D. Eccolo qui, vediamo un po'. Eccola qui la foto con il compianto Angelini. Quando abbiamo vinto un campionato con dieci punti di vantaggio 76-77 campionato di Serie D. Poi ci sei tornato per altri tre anni con Manganiello, grande presidente. Sì, mi sono stato sfortunato perché a prescindere dalla mia forza io proprio ero un aggressivo e purtroppo perdemmo una partita su calci di rigore e siamo stati tagliati fuori e allora me ne sono andato. Perdemmo l'anno precedente con i calci di rigore a Cesena e non sono stato fortunato. Ironia della sorte sbagliò Carmelo Genovasi che io guardavo perché imparavo solo nel guardarlo l'anno in cui sono stato a Chieti e devo dire che ho imparato molto solo nel guardarlo. Eccezionale. Aveva i piedi eccezionali era un ragazzo che si dedicava a questa cosa non aveva mai sbagliato il rigore in combinazione quell'anno e quel rigore determinante non aveva sbagliato. Lui e Leone. Luca Leone che era giovanissimo faceva l'attaccante lui. Poi ci sei tornato a Chieti. Ci sono tornato come direttore sportivo perché l'affetto mio con Manganiello era eterno perché era una persona di una bontà eccezionale. Manca un dirigente come Manganiello nel calcio? Sì. Sì perché era un imprenditore nel calcio perché era veramente intelligente sapeva come muoversi aveva un rapporto con l'esterno affabile e non era arrogante come tanti altri presidenti. In Abruzzo sei stato anche a Francavilla come allenatore sei stato abbasto prima di Avellino Certo sono stato abbasto non abbiamo vinto il campionato abbasto perché non avevamo del denaro per fare la serie B e vinse il Brindisi che c'era Vinicio e comunque io Ah Luis Vinicio c'era a Brindisi e che noi quando venne a giocare con noi noi vincemmo 1 a 0 stava in difficoltà perché loro come città era molto più grande di Vasto a fare la serie B non era possibile comunque gli anni in cui ho passato nella mia attività calcistica e sia come allenatore mi sono sempre divertito. Qual è il messaggio che ti senti rivolgere? Il messaggio voglio dare solo la mia esperienza io avevo 14-15 anni la mattina mia mamma mi faceva alzare alle 5 per i sacrifici che ho fatto mi alzavo alle 5 e correvo nei paletti che c'è nelle ferrovie ti ricordi che prima c'erano c'era uno spazio per saltare quello spazio e correre dovevi essere molto attento perché se no se mettevi i piedi in mezzo ti graffiavi perché c'erano i sassi la mia carriera è iniziato così solo con il rapporto che era l'affetto di mia madre che ogni mattina alle 5 mi bussava alle spalle mi diceva figlio mio alzati che devi andare a fare allenamento mi alzavo alle 5 del mattino facevo 50-60-70 metri su questi paletti perché io ero un po' lento essendo un pochino lento calcisticamente non andava bene tecnicamente era un fenomeno perché io facevo 100 palleggi con una pallina da tennis non avevo problemi avevo problemi solo di migliorarmi nelle mie capacità motorie e così sono andato avanti quasi più di un mese un mese e mezzo tornando mamma mi faceva trovare pronto l'uovo sbattuto con lo zucchero lo zabaglione prendevo lo zabaglione andavo a letto un'oretta un'oretta e mezzo dopo mi alzavo e continuavo la mia giornata non facevo nulla perché ero bambino però c'erano i pallonici c'erano gli amici che avevano la palla si mettevamo a giocare due tre ore a palla per arrivare ad essere un calciatore non dico un fenomeno ma un calciatore che abbia la sua dignità di se stesso deve continuamente migliorarsi e migliorarsi significa fisicamente e tecnicamente allenamento e sacrificio continuamente e sacrificio se uno non fa dei sacrifici nella vita non fa carriera è stato un onore Tony intervistarti come ricordare il passato ma il passato quello che conta del grande Torino va sottolineato e ribadito grazie ancora a Tony Giambarinato grazie a tutti vi abbraccio tutti quanti grazie 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 a tutti